Più di un milione e settecentomila persone nel mondo hanno frequentato un corso di lingua italiana e la nostra è la quarta lingua più studiata. Sorprendente se si pensa che si parla solo nei confini della penisola, in un cantone della Svizzera. Un patrimonio che non va sprecato e infatti la settimana della lingua italiana nel mondo, dal 19 al 24 ottobre, è arrivata alla sua quindicesima edizione con molti eventi organizzati dai comitati promotori all'estero. Ma la festa della nostra lingua non poteva prescindere da Firenze, dove si sono tenuti gli stati generali alla presenza di rappresentanti di governo e Accademia della Crusca, oltre naturalmente al padrone di casa. Firenze non è solo la culla della lingua italiana per quanto riguarda la storia, ma è ancora una realtà e la più grande ambasciatrice dell'italiano nel mondo. Pensiamo a quante scuole di italiano per stranieri abbiamo nella nostra città. Nell'economia, come ad esempio la moda, l'artigianato, l'enogastronomia, la stessa tecnologia, l'italiano è anche uno straordinario veicolo di promozione economica. E a proposito di economia, aprire scuole di italiano all'estero è un vero affare, ha sottolineato il sottosegretario agli affari esteri, Mario Giro. Ci sono aree dove non ci siamo, come in Asia ha ricordato, a fronte di altre dove invece stiamo aumentando, come l'Australia o la Germania, dove siamo i primi. Il sottosegretario Toccafondi ha sottolineato invece un altro aspetto. La nostra lingua ha un valore sociale. Per un adeguato inserimento dei tanti stranieri che in questo momento di emergenza nel mondo stanno arrivando con ogni mezzo nel nostro paese, è la nostra lingua che ci fa abbattere delle barriere che difficilmente potremmo abbattere in altro modo.